Il merito storico di Umberto Bossi, che in queste ore ha compiuto 80 anni, è di avere portato al centro dell'attenzione pubblica il tema del federalismo, cioè una forma politica, come scrive lo storico svizzero Gonzaga Reynon, e uso le sue parole, nella quale molti piccoli stati o città accettano di sacrificare una parte della loro sovranità per istituire un potere centrale, dirigente e supremo, allo scopo di meglio difendere la loro esistenza, cioè quella degli stati, dei piccoli stati, di conservare la loro indipendenza e di promuovere i loro interessi comuni. In Italia, dopo il risorgimento, le cose andarono diversamente e l'unificazione politica della nazione produsse un sistema politico centralista sul modello francese. I piccoli stati furono annientati e il potere centrale che nacque produsse soltanto l'interesse dello Stato vincitore, il Regno di Sardegna. Tutte le successive forze politiche italiane accetteranno lo Stato centralista e nessuna porrà la questione del federalismo prima della Lega, né l'Italia liberale, né quella fascista e neppure quella repubblicana, che dopo la Seconda Guerra Mondiale si limitò a qualche concessione nella prospettiva del decentramento, che peraltro è cosa assai diversa dal federalismo. Sulla scia del suo maestro, l'intellettuale valdostano Bruno Salvadori, morto prematuramente in un incidente stradale nel 1980, Bossi pose così un problema reale e veramente sentito da una parte dell'opinione pubblica. Il centralismo dello Stato, la burocratizzazione della vita pubblica, la mortificazione della società civile e dei corpi intermedi sono tutti problemi realmente percepiti che non hanno mai trovato un'espressione politica perché nessuna forza si è candidata a rappresentarli nella vita pubblica. Questo fino alla Lega. Umberto Bossi ha avuto questo merito. Lo ha fatto con il suo stile, pittoresco e gridato, con sbandamenti ideologici importanti che lo videro passare attraverso posizioni come la secessione della Padania che poco o nulla avevano a che fare con il federalismo, che lo portarono ad allearsi prima con il centro-destra nelle elezioni politiche del 1994 per poi contribuire a fare saltare il primo governo di Silvio Berlusconi, salvo poi ritornare ad allearsi con esso in modo stabile praticamente fino ad oggi. Quando lo incontrai per la prima volta nella sede milanese di Alleanza Cattolica negli anni Ottanta la Lega era proprio all'inizio, ma non mi convinse. Parlava soltanto dell'autonomia della Lombardia quando c'erano problemi, a mio avviso, molto più gravi come il comunismo, eravamo prima del 1989, o come la legalizzazione dell'aborto confermata dal referendum del 1981. Tuttavia, la sua perseveranza ha contribuito a portare all'attenzione un problema reale e grave. Infatti, il centralismo dello Stato, come ho già detto, è un tema sentito ed è l'espressione del rifiuto di un principio fondamentale, il principio di sussidiarietà, cioè di quel principio del diritto naturale fatto proprio dalla dottrina sociale della Chiesa per cui le realtà più piccole, a cominciare dalla famiglia, che è il primo fondamentale corpo intermedio, devono avere la libertà di potersi costruire secondo il proprio progetto ideale. Perché? Perché il loro diritto non deriva da una concessione dello Stato. Come accennavo, il tema del federalismo non può da solo risolvere tutti i problemi, e ha bisogno di una visione del mondo che lo accompagna. Lo stesso Bossi se ne accorse, arrivando a portare la Lega nel corso degli anni a difendere e a proporre principi di diritto naturale, senza i quali lo stesso federalismo perde gran parte del suo significato. Così, con il tempo, la Lega è diventato un partito che raccoglie il voto dei conservatori, dei ceti produttivi del Nord, delle persone di buonsenso, che non capiscono perché le realtà minori, i comuni, per esempio, non possano fare meglio, come storicamente hanno sempre dimostrato, quello che lo Stato fa male e con costi esagerati per la collettività. Attraverso un percorso complesso, essa, la Lega, è arrivata anche a difendere i principi fondamentali del bene comune, come la sacralità della vita, come la centralità della famiglia, assumendo molte posizioni in sintonia con la dottrina sociale della Chiesa. Finita l'epoca delle ideologie, con il 1989, la Lega, che è il primo partito italiano post-ideologico, è diventato anche il più antico partito, fra quelli presenti in Parlamento, falcidiati tutti dai fatti legati alla corruzione politica con gli episodi raccolti nella formula tangentopica. E anche dalla fine della guerra fredda, che ha reso inutili alcuni partiti che trovavano la loro giustificazione, come la democrazia cristiana da una parte e il partito comunista dall'altra, proprio nella guerra fredda che contrappose il mondo occidentale all'Unione sovietica. Tuttavia, complice forse la malattia che purtroppo colpì Umberto Bossi, la Lega ha smesso di parlare di federalismo per assumere posizioni più simili a quelle di un partito nazionalista. E la cosa obiettivamente risulta incomprensibile, perché proprio allo scopo di radicarsi nel sud del paese, niente meglio del federalismo risulterebbe adatto al raggiungimento dell'obiettivo. Perché se una cosa va bene nel Veneto o in Lombardia, perché non dovrebbe andare bene anche in Calabria o in Sicilia? Ma questa è un'altra storia, o meglio un'altra domanda che non possiamo porre a Umberto Bossi, a Senatù, che in questi giorni ha compiuto 80 anni a cui facciamo tanti auguri. Buon compleanno, buona settimana a tutti.